Noi abbiamo avuto finalmente una bella risposta scritta in cui si evince una problematica molto seria della quale io mi vergogno anche perché effettivamente come professionista vengo a sapere una cosa che veramente mi lascia molto sconcertata. Allora, il farmaco attualmente non ha problemi di distribuzione, il farmaco è un farmaco vivo e vegeto. Il problema della distribuzione riguarda il contingentamento delle quantità che i grossisti possono acquistare dalla ditta perché purtroppo il farmaco, avendo questo contingentamento, vuol dire che è un deterrente per l'esportazione e quindi per l'acquisto dei paesi esteri dove in Italia il farmaco costa molto meno. Il problema nasce proprio perché quando c'è un uso in deroga veterinario per la cura dell'avvelenamento noi abbiamo bisogno di tante fiale, tante scatole, questo significa che noi non riusciamo poi chiaramente a dare un aiuto valido ai nostri amici animali. Quindi le farmacie, da questa risposta scritta, si evince appunto che potrebbero anche effettuare degli ordini diretti e quindi bypassare il grossista che ha problemi perché poi il grossista deve provvedere a tante farmacie su tutto il territorio fare degli ordini diretti, ecco proprio loro, le farmacie alla ditta, sempre rendendo conto della quantità contingentata. Però questo potrebbe essere già un aiuto un po' più valido perché tante farmacie con una quantità limitata vabbè però potrebbero contribuire tantissimo. E questo che significa? Che la farmacia chiaramente si apre ecco alla disponibilità quindi significa che fidelizzare gli animalisti perché poi alla fine ecco noi ci metteremo a disposizione direttamente degli nostri animali e quindi ecco questo significa anche fidelizzazione e anche con la collaborazione dei miei colleghi nella farmacia appunto dove io lavoro. Devo dire che abbiamo fatto una grande ricerca abbiamo scoperto che è possibile che i farmaci, soprattutto i veterinari perché i veterinari attualmente non sono informati. Tanto è vero che stiamo noi suggerendo alla persona che viene di farsi scrivere che cosa? Abbiamo scoperto che i grossisti hanno un farmaco che può essere prescritto dietro presentazioni di scelta elettronica veterinaria sia in compresse e sia in fiale. È molto importante. Questo farmaco appunto io poi darò delle informazioni precise anche sul mio contatto Facebook e anche a voi si chiama vitamina K1, laboratorio TVM, 50 mg, 14 compresse e praticamente 10 mg per millilitro quindi ogni ampolla, ogni fiale sono 5 ml quindi c'è un grandissimo dosaggio di questa vitamina K in fiale chiaramente sono prescrivibili appunto solo con la ricetta elettronica, sono accessibili con la ricetta elettronica veterinaria quindi i veterinari io spero che non posso contattarli tutti però comunque è molto importante che lo sappiano anche loro e mi fa meraviglia che loro non lo sappiano perché attualmente loro ancora prescrivono il Conakion, dicono cercatelo.